Ancora una protesta da parte dei lavoratori Elios, non si riesce a risolvere questa situazione? No, siamo preoccupati. Gli stipendi oggi ancora non sono arrivati, ci risulta che il sindaco e l'amministrazione abbia fatto già il bonifico e l'azienda non sta pagando gli stipendi. Non sappiamo a oggi effettivamente chi dovrà subentrare la gara, ma soprattutto se la gara è regolare, perché ricordiamo che è stata giudicata una gara oggi, co dentro un pezzo di gara che è già stata giudicata dal Tribunale. Quindi lunedì ci dovremmo incontrare col sindaco per cercare di dipanare questa situazione che ancora crea cortocircuito, perché non si sa chi deve subentrare, non si sa se la gara è regolare, non si sa quando prendono i soldi i lavoratori, quindi è tutto abbastanza complicato. Quali sono le vostre richieste? Ci sono delle priorità? Sì, la priorità è la salvaguardia dei posti di lavoro di tutti. Noi probabilmente lunedì o martedì scriveremo all'ANAC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché a oggi il responsabile l'unico del procedimento non ha dato risposta, noi abbiamo scritto una lettera al responsabile l'unico del procedimento per capire e chiedere delucidazioni in merito a questo cortocircuito che si è creato e a oggi non abbiamo ricevuto risposta. Speriamo di riceverla lunedì, altrimenti noi ci muoveremo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ecco lunedì questo incontro, che vi aspettate? Ci aspettiamo intanto delle risposte che vadano nella direzione della salvaguardia di tutti i livelli occupazionali. Intanto capire questi lavoratori quando saranno assunti, come saranno assunti, a quante ore saranno assunti e pretendiamo una regolarità nel pagamento degli stipendi di tutti quanti. Questa situazione sta diventando insostenibile. Sta diventando spaventosa, è stato esaustivo, Marco ha spiegato tutte le paure che abbiamo. Io vorrei solo ricordare che siamo quasi 100 famiglie, 100 persone che faticano ormai da anni a sapere se portare un piatto a tavola per i figli o pagare la bolletta, perché non abbiamo mai certezze, non sappiamo se avremo lo stipendio o quando lo avremo e ora non sappiamo più nemmeno da gennaio, da febbraio, dal mese prossimo, se avremo un posto, a che parametri, per quante ore. Siamo davvero preoccupati. Avete incontrato per poco il sindaco questa mattina, lo rincontrerete lunedì, forse arriverà qualche risposta in più. Sicuramente lunedì ci sarà un incontro formale. L'incontro di stamattina è stata una meteora, diciamo che non c'è stata nessuna risposta e neanche la possibilità di fare nessuna domanda, direi. Speriamo di avere lunedì un incontro che ci dia delle risposte, che sia concreto.